Ciao a tutti tifosi e tifose, benvenuti in questo nuovo video Partiamo sempre con la sala cinesca Cicci Zola, vuoto 2 2 come uscita vuoto che ha fatto durante la partita Molti dicono che è incolpevole sul gol, per me no Poteva tentare assolutamente l'uscita Perché l'area piccola in teoria dovrebbe essere dominata dal portiere Impreciso neanche con i piedi Solita partita indecente, soliti errori, solita solfa 2 Di Chiara, 5, solita partita di nulla cosmico Nient'altro da aggiungere Oculibali per me è voto 6 Non mi è dispiaciuto alla prova Secondo me il suo grande difetto è che Quando ha l'occasione di andare avanti Manca il coraggio di fare una giocata in più Magari provare lui l'azione, provare il tiro Provare a inserirsi in aria Se migliora quello è un gran terzino Voto 6, uno dei migliori secondo me Osorio, 5 O gioca con Circati o non deve giocare Perché veramente In coppia con Balog sono veramente una sciagura Un disastro Già lui da solo Un difensore, diciamolo chiaramente Scarso, non è forte Poi con Balog veramente si Le due scarsità si uniscono Balog Gli potete dare un voto molto più basso Gli do un 4,5 Perché Si è fatto espellere, è vero E' stato ingenuo perché si è fatto scappare l'uomo due volte Però non è appunto aiutato Perché con Osorio è come giocare da solo E poi non è stato aiutato perché già è scarso di suo Poverino E' già munito Una gara che devi vincere a tutti i costi Lo togli Perché in Pachira c'è un certo Circati Quindi Secondo me non ha solo le colpe sue Sappiamo benissimo che è illimitato Purtroppo Sta facendo anche un discreto a primo tempo A parte Farsi scappare tuttino appunto Su quel famoso palo E' o 4,5 Perché si è fatto espellere Compromettendo un po' una gara Hernani Quanto meno dopo Cittadella Sta diventando un calciatore E' già tanto 6 Insomma Qualche padone l'ha recuperato Ho provato qualche sgasata Alla fine è stato uno dei migliori Quindi gli do 6 Solita imprecisione Ma Ciprienne Spero che dopo questa partita qua Mi potete dare ragione Perché Ciprienne E' un giocatore di un'altra categoria Dopo Berdabè E' il più forte A centrocampo L'ha dimostrato Con una partita sontuosa Bellissima Secondo me è anche un giocatore completo Recupera palloni E' un regista E Ogni volta che c'entra la porta E' così sempre gol Ha fatto gli stessi gol Gli Arnani Con il 90% di minuti in meno E gli stessi gol Di Bonni Con il 45 miliardi di per cento In meno di minuti Voto 7 Miaila Gli do 5 e mezzo E' stato secondo me Uno dei pochi A provarci A far qualcosina E poi gli dice Che secondo me 5 e mezzo anche lui In ombra Rispetto all'ultima partita Ci può stare Parti Pilo Mi dispiace Perché Gli darei 6 Perché Pecchia Lo usa malissimo E lo metto in difficoltà Che non gioca mai E pretende che Di punto in bianco Faccia qualcosa Sappiamo tutti Che i giocatori Hanno bisogno di minuti Per prendere la forma Voto 5 Perché alla fine Ha fatto un bellissimo Primo tempo E Pecchia Lo mette in difficoltà Man Voglio essere un po' cattivo 4 e mezzo Perché Ha provato qualche sgasata Sempre Un po' come tutta la squadra Nella prima mezz'ora Ma poi Poco e nulla L'atteggiamento Sembra un po' discutibile Secondo me Che sembra Che non si impegni Più di quel tanto E poi l'ennesimo errore Sotto porto Incora una volta Con la porta Praticamente sguarnita È andata a beccare la traversa Spero che non sia un errore Che pagheremo poi A fine stagione Ma se ne ha già mangiato Un gol contro il Como E lì forse pesa ancora di più E quindi Gli devo dare 4 e mezzo Più che altro Per Tra virgolette Rimprovero Sperando che Ritorni quello di Poco fa tra l'altro Quindi spero che ritorni Quello di poco fa I cambi Camarà Senza voto È entrato Mezz'ora È uscito dopo l'espulsione Gestione pessima Nell'allenatore Anche di Camarà Gli do senza voto Charpentier Gli do senza voto Perché Come sempre Una gara che deve assolutamente vincere Veniva in un pareggio col Como Che secondo l'allenatore È un gran pareggio Allora con il Cosenza Deve vincere E lui lo mette in campo Al 75 E quindi Senza voto Bonny Il voto se lo merita E gli do 2 Perché mi ha rotto le palle Detto sinceramente È entrato Malissimo Mollo In fase difensiva Mollo In fase offensiva Non becca un pallone Il nana di rigore È pressoché inutile Ho letto Di un giornalista Che gli ha detto Doveva entrare prima Ha dato fosforo All'attacco Ditemi per favore Cosa cavolo vedete Perché Bonny È entrato Malissimo Voto 2 Cercati Guarda Sarebbe da senza voto Ma gli do 6 Perché Non deve stare in panchina Quindi gli do 6 Arriviamo all'anelatore A Pecchia Confermo lo 0 Che gli ho dato Contro il Como Gestione orribile Della partita Gestione orribile Che se ne dica Anche della squadra Della Rosa Gestione orribile Dei cambi Come al solito Lo sa anche Il funghetto Del prato Che c'ho qua davanti Che Val e Gosoro Non possono giocare Statistiche Basterebbe leggere E lui Se ne infisca altamente Perché lui Può farlo Lui è il maestro E quindi 0 Perché È quello che si merita Altri due punti persi Per colpa Della sua Superbia Della sua arroganza E quindi Gli do 0 Saluto Al prossimo video Ciao